A partire dai prossimi giorni, tutte le attività marittime e portuali di Porto Torres saranno sottoposte ad un'intensa attività di vigilanza che sarà svolta in collaborazione tra la Capitaneria di Porto Torres e lo Spresal, il Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro. Un'iniziativa pianificata dal Comandante Gianluca Olivetti, il Capo Servizio Sicurezza Matteo Orsolini della Capitaneria di Porto e per lo Spresal Pietro Masia e Pietro Secchi che mira al monitoraggio di tutte le procedure e modalità di espletamento del servizio e degli incarichi da parte delle diverse categorie interessate. I controlli che dovranno essere completati entro la primavera del 2021 saranno attuati sui traghetti, le unità di pesca e i cantieri navali, una tasche forse nella tutela e sicurezza dei luoghi di lavoro per consolidare il rispetto delle norme che regolano le attività di pesca e la portualità e promuovere la cultura della sicurezza.